Ma dove esiste la civiltà giuridica in un paese del genere? Siamo sotto una patologia della magistratura italiana o di parte della magistratura italiana che dobbiamo sconfiggere e io non sono riuscito a fare una riforma della giustizia perché i soliti fini, casini, follini e gli altri non me l'hanno lasciato a fare e non me l'hanno lasciato a fare i cittadini italiani, io ho fatto tantissimo, guardi qua Presidente, un attimo, Presidente, ho onorato di aver avuto la cartellata e poi nel privato, il simpatico che mi permetto anche così Il peso leggero Poi lei mi ricorda i cantastorie della mia infanzia Posso, scusate, è un break, è un gong da Milano No, un gong, un gong